Musica Oggi siamo a Fontigo per la manifestazione Mondo Disabili, Mondo Motori, la manifestazione che unisce lo sport alla disabilità. Accendete i motori! Musica Beh, ovviamente è una manifestazione molto bella, molto importante perché è unica nel suo genere, effettivamente accomunare queste due situazioni, il mondo dello sport, in modo particolare automopedistico, ovviamente con il mondo della disabilità, non è certamente facile. Gabriele Favero e tutto il suo staff ogni anno riesce ad essere sempre più protagonista, sempre tantissimi ospiti e credo sia la più bella cosa, il più bel riconoscimento in questa bellissima giornata anche per tutti coloro che effettivamente sono meno fortunati di noi e che sono protagonisti per un giorno. Musica Siamo venuti da Udine, abbiamo accolto l'invito dei nostri amici Veneti e siamo qua a disposizione per tutto il giorno. Quali motori avete portato? Noi abbiamo portato, praticamente sono tutti dei nostri soci questi, sono le jeep americane, un dojo americano, la moto tedesca che fa sempre bella figura nonostante la sua storia, è tutto nuovo per noi, però abbiamo insomma raccolto molto volentieri l'invito. Ogni anno veniamo qui a fare un po' di show, abbiamo fatto anche in casa nostra per i disabili, per la raccolta fondi, abbiamo fatto per il passato delle manifestazioni molto riuscite per la casa Maria dell'Aide e per altri insomma anche per la città della speranza, abbiamo fatto belle manifestazioni. Siamo qua pronti per questa bellissima manifestazione, diciamo di far divertire i nostri amici Veneti e i nostri amici. È la prima volta che partecipate a questo evento? Sì, ne avevamo sentito parlare e però soltanto quest'anno abbiamo radunato tutti i nostri ragazzi per poter partecipare a questo momento di inclusione. Da dove arrivate? Da Silea di Treviso. Cosa vi sembra questa giornata? Beh sicuramente è un momento molto allegro, diciamo molto motivante per i ragazzi, infatti sono tutti qua che sono proprio in fibrillazione per poter salire sulle macchine, quindi direi proprio una manifestazione molto importante per loro. Tornerete che il prossimo anno? Sicuramente, assolutamente sì. Grazie. Tornerete che il prossimo anno